ciao a tutti benvenuti o bentornati qui sul mio canale youtube per chi non mi conoscesse mi presento io sono valentina in arte valley makeup lover e qui sul mio canale parliamo di beauty makeup e skin care a 360 gradi nel video di oggi come ogni mese andremo a fare l'unboxing della beauty box di look fantastic che questo mese si colora di rosso proprio un bel rosso natalizio prima di iniziare vi ricordo che mi trovate come valley makeup lover anche su instagram e tik tok e se volete continuare a vedere video sul mio canale mi raccomando iscrivetevi ma come sempre ho parlato abbastanza iniziamo subito con l'unboxing questo mese abbiamo la brochure cartacea dove ci viene scritto come sempre cosa è contenuto nella box la box come avete visto è rossa e ovviamente abbiamo qui sul tappino sparkle di festive season and ever very merry christmas dal team beauty box di look fantastic il rosso che hanno utilizzato per la box è veramente carinissimo e come sempre all'interno abbiamo i nostri prodotti che andremo a vedere nello specifico che cosa ci promettono qua nella prima pagina della brochure abbiamo i prodotti contenuti vi posso già anticipare che questo pennello non è contenuto nella box ma al suo posto c'è un altro prodotto che andremo a scoprire dopo non ho ben capito la scelta del cambio di prodotto però andiamo a vedere nel dettaglio qual è il primo prodotto e di che cosa si tratta marchio che già conosco è come vi ho detto in alcuni video precedenti adoro abbiamo qui un cleanser del marchio elemis come sapete è un'ottima marca abbastanza high hand ho provato già come vi ho fatto vedere nello scorso video dei prodotti promossi e bocciati una crema viso e mi era piaciuta tantissimo andiamo a leggere che cosa ci promette questo cleanser ci dice che è un cleanser che va a rivitalizzare la pelle va a pulire tutto lo sporco e addirittura a togliere il makeup quindi anche uno struccante va a pulire anche tutti i depositi di inquinamento sulla nostra pelle andando a pulire a fondo anche i pori la pelle rimane rinvigorita e ribilanciata da quello che ci scrive va applicato su pelle non umida e poi bagnato con acqua tiepida per andare a creare penso una mousse e poi risciacquarla del tutto voglio provare questo cleanser perché comunque elemis ormai per me è una garanzia e come sapete con la mia pelle secca devo stare attentissima anche ai tipi di detergenti che vado ad utilizzare e questo sembrerebbe ottimo quindi non vedo l'ora di provarlo il prossimo prodotto è un prodotto di makeup conosco già il marchio e ho provato solo due prodotti e mi ci sono trovata benissimo e sto parlando di aiko che ci propone questo illuminante in stick vado a suocciarlo perché è giusto che lo vediate anche suocciato è rosato e ha dei micro glitter questo è l'illuminante come potete vedere molto riflettente molto molto carino secondo me è adatto a pelli chiare andiamo a leggere che cosa ci promette per un look luminoso e liftato l'ideale è questo stick di aiko è formulato con olio di jojoba ed è un versatile illuminante che può anche essere utilizzato per andare ad illuminare l'inner corner dell'occhio e quindi far sembrare gli occhi più grandi e più luminosi è facile da sfumare questo illuminante rimarrà lì fermo per ore senza andare a colare o disperdessi ci dice ovviamente di andare ad appoggiare l'illuminante sullo zigomo sulle zone che vogliamo illuminare anche addirittura qui sotto l'arcata sopraccigliare e andare a sfumarlo leggermente con il dito quindi sembrerebbe un prodotto facilissimo da utilizzare e vi dico la verità per l'inner corner mi sembra anche molto bello per questo periodo festivo perché avendo anche delle micro perle scienze dorate va a risaltare i vostri look delle feste l'ho applicato leggermente sul naso e guardate quanto è luminoso è veramente molto carino sicuramente lo utilizzerò in un prossimo video vediamo come performa su tutti i punti del viso che ci va ad indicare il prossimo prodotto è un prodotto che io adoro e in quest'ultimo periodo mi sto trovando ad utilizzarli tanto soprattutto in questo periodo freddo e sto parlando di questi patch occhi rivitalizzanti di starskin starskin è un marchio che già conosco ho provato un altro tipo di patch occhi sempre starskin e mi ci sono trovata benissimo andiamo a vedere questi gold mask eye che cosa ci promettono ci dice che il nostro contorno occhi ha bisogno di un trattamento luxury quindi di un buonissimo trattamento questi patch vanno a rivitalizzare gli occhi quindi a dare un aspetto più sveglio e meno stanco con questi gold eye mask da 24 carati sono perfetti per andare a dare un boost di elasticità alla zona del contorno occhi che è molto delicata e ci dice che è arricchito con l'83% di rosa di gelico che è conosciuta per le sue proprietà rivitalizzanti ovviamente per andare ad utilizzarli in modo classico andate a metterli togliete la parte in plastica e li lasciate agire 10-15 minuti una volta terminato il trattamento rimuovete i patch e andate a tamponare il siero rimasto e lasciate assorbire quindi dovrebbero essere ottimi per me per andare comunque a pianare le rughette li proveremo sicuramente su instagram in una skin care routine il prossimo accessorio mi fa sorridere perché io sono sicura che utilizzando una cosa del genere me la ritroverei in brandelli il giorno dopo perché i miei gatti non apprezzano e sto parlando di questa mascherina questa sleeping mask di globe globe è un marchio che io conosco ho già alcuni prodotti e utilizzo quando vado a lavarmi i capelli il loro turbante in microfibra mi trovo benissimo perché è un prodotto che va ad asciugare i capelli senza andare a seccarli è ottimo quindi se vi interessa quel tipo di prodotto prendetelo perché è ottimo questa maschera dovrebbe essere in seta perché è veramente morbida e all'interno anche penso della gomma per andare a renderla così morbida ma andiamo a leggere quali sono le sue caratteristiche ci dice che questa maschera è fatta al 100 per cento di seta e dovrebbe andare ad aiutarci durante il nostro sonno perché rimane molto morbida sulla pelle e ci dovrebbe lasciare anche la pelle morbida senza segni e senza andare comunque ad appesantirla è ideale per il viaggio è questa maschera riduce le rughette da quello che ci dice causate durante il sonno quindi dovrebbe essere tra virgolette anche un trattamento beauty io vorrei tanto provarla sicuramente tenterò però sono sicura che il giorno dopo la ritroverò praticamente a brandilli mangiata da leo e crono però per la scienza proveremo anche questo il prossimo prodotto che andiamo a vedere la sostituzione del pennello non sono andata a leggere nell'effettivo se c'è stato un errore oppure è stato sostituito perché il pennello non c'era più è stato sostituito con questo rasoietto di hollywood browser è un rasoietto che viene indicato per andare a togliere la peluria delle sopracciglia e andare a togliere la peluria del viso io ve lo dico molto sinceramente utilizzo già questi rasoietti sul viso vado proprio a togliere la peluria in questa zona e no non ricresce più grossa non sembro uno ieti non preoccupatevi non vi ricrescono i peli grossi come i peli di un maiale per intenderci e lo utilizzo soprattutto perché ho notato che i prodotti applicati al di sopra sia la skin care che il make up vanno a stendersi molto meglio e poi vedo che non mi lasciano aloni la pelle è molto liscia molto bella da vedere e comunque quando voi andate ad utilizzare questo tipo di prodotto sul viso va a farvi anche una sorta di dermappealing chiamiamolo così perché andando a passare il rasoietto tutte le cellule morte vanno via quindi è come se fosse uno scrub chiamiamolo così vi dico la verità io mi ci trovo benissimo non posso andare a leggervi che cosa ci promette anche se qua ci dice che istantaneamente va a rivelare la pelle liscia e radiosa il make up ha un finish molto più bello e la skin care va a penetrare meglio quindi quello che vi ho detto prima alla fine sostanza quello che ci promette qua ci dice i benefici del derma planning è il termine esatto per andare a indicare proprio questa tecnica con il rasoietto sono curiosa di provarlo perché attualmente sono alla ricerca di rasoietti diciamo di buona fattura che non vadano a non avere diciamo più il filo dopo un paio di usi non lo so se voi ne utilizzate fatemelo sapere nei commenti quindi lo proverò vi farò sapere come mi trovo e se volete possiamo fare anche magari un prossimo video dove vi mostro qual è la mia routine completa della skin care compresa quella del rasoietto fatemelo sapere nei commenti l'ultimo prodotto è un prodotto di make up ed è un blush del marchio lotty london se non erro non possiedo nient'altro di questo brand però da quello che so è un brand di make up ottimo e anche low cost voglio andare a leggere che cosa ci promette questo blush allora da quello che ci dice è una polvere molto sottile che va a regalare quel tocco di salute alle gote e dovrebbe durare tutto il giorno ci dice che è fatta appositamente per dare un pop di colore e il fatto che sia piccolo quindi così tascabile è perfetto da portare in viaggio la formula è stratificabile e dovrebbe andare a dare anche una coprenza ovviamente modulabile a seconda dei vostri gusti ci dice di andarla ad utilizzare con un pennello e applicarla sopra il nostro fondotinta dovrebbe essere quindi un blush molto sottile la cosa curiosa non so se notate è il fatto che abbia una colorazione gradiente quindi penso che potete anche regolarvi per quanto riguarda la coprenza e la colorazione lo proveremo sicuramente in un video magari in un reel di instagram e quindi vi aspetto anche lì per provare l'ultimo prodotto che abbiamo appena visto bene raga anche questo video volge al termine fatemi sapere se questa box vi è piaciuta e soprattutto fatemi sapere se avete già fatto l'abbonamento look fantastic perché sono curiosissima di saperlo vi ricordo che se volete supportarmi il modo migliore per farlo è lasciare un bel like iscrivervi al canale mi raccomando attivate la campanella per essere sempre informati sull'uscita di nuovi video anche per oggi è tutto io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video ciao raga